RIVISTO! RIVISTO! Leggete rivisto! RIVISTO! It shouldn't come as a surprise What I'm feeling, what I'm feeling now It shouldn't come as a surprise Sky-darned hazel eyes It shouldn't come as a surprise What I'm feeling, what I'm feeling now It shouldn't come as a surprise Gentili telespettatori Buonasera e ben ritrovati all'Iriverente Anche in questo 2015 Anche in questo nuovo anno Torniamo a parlare di cultura Il titolo, avete visto, è Cultura in fuga Purtroppo i cervelli in fuga I grandi scienziati Hanno lasciato l'Italia Per gli Stati Uniti Per la Germania Per altri paesi europei E anche la cultura Oggi lascia il nostro paese E per parlare di questo fenomeno Che sia grave ed è sempre Ed è sempre più accentuato In questi ultimi anni Abbiamo invitato come studio da noi Uno scrittore ligure Uno scrittore che è nato tra gli olivi E uno scrittore che Oltre ad aver scritto diversi libri Si è cimentato anche nella poesia Ma è in fuga E la sua cultura è in fuga In fuga verso paesi europei ed extraeuropei È un traduttore È un traduttore dal spagnolo e dall'olandese È un figlio di questa nostra Liguria Che purtroppo a mano in cuore Ha lasciato per trasferirsi in Olanda Grazie a Marino Magliani Che stasera è qui con noi Grazie per aver accettato il nostro invito Ecco la cultura Tu sei uno di quelli Che ha lasciato La propria terra Per cercare Diciamo anche fortuna all'estero Con poesie Con scritti Con libri Che parlavano e che parlano Di Ulivi Di Mimosa Un po' sommar come Francesco Biamonti Il quale non ha lasciato la sua terra Ma in un certo momento Sembrava quasi che la volesse lasciare anche lui Ecco questa fuga durerà ancora O sei intenzionato a ritornare Nella tua dolcedura Nella tua prela Intanto grazie all'eriverente Grazie a Daniele Io sono andato via di casa da bambino La mia narrativa La mia poetica Tutto ciò che ho fatto Ciò che ho raccontato Ciò che ho scritto Si è sempre nutrito di questa parola Che tu hai usato La fuga Ho cominciato Ho cominciato Sono andato via da ragazzo Un po' per mare Un po' più in Sud America Un po' nel nord Europa E poi mi sono fermato in Olanda Sulla costa Sul mare del nord E lì ho cominciato a guardare La Liguria Con una specie di Di telescopio E forse questo è stato il La vera cosa che mi ha consentito di guardare Da lontano alla mia Liguria E sono di Dolcedo Io sono nato in un posto che adesso è un ricovero per anziani Però il mio paese è sempre stato Molini di Prelà Un luogo al quale sono legatissimo Dove torno quasi come dire ciclicamente Se c'è una cosa in cui sono un esperto è il ritorno Anzi mi sento una specie di scienziato del ritorno Del nostos E poi sono uno che ama dire che Si torna dal momento in cui si parte Ecco Tu mi chiedi se un giorno tornerò qua Io ci sono almeno 3-4 mesi all'anno Quindi tutte le mie narrazioni Si nutrono anche del terreno fertile della Liguria Anche se ultimamente ho cominciato a A raccontare il nord Forse man mano che sono passati gli anni in Olanda E La memoria stessa di questa costa inzuppata Di questo quartiere che si chiama Seivai Che è il quartiere del mio ultimo libro che è Soggiorno a Seivai Che mi ha suggerito di occuparmi anche di questa duna Che è la duna del mare del nord Pagliani Chiedo scusa se interrompo Ma vorrei proprio soffermarmi un attimo su quello che hai detto Cioè sulla tua dolcedo Sulla tua prela Su questo villaggio Su questo borgo dell'immediato entroterra Imperiese Ricco di ulivi Ricco di storia Ricco anche di poesia potremmo dire Tu dici io sono scappato Sono fuggito e continuo a fuggire da questo luogo Però non è una contraddizione il fatto che questo luogo invece sia così rinomato in Germania e in Olanda Dove olandesi e tedeschi hanno comprato la seconda casa oppure addirittura hanno fatto come loro prima di Mora Proprio questi piccoli borghi Ecco Cioè gli olandesi arrivano in Liguria Gli olandesi colonizzano in maniera pacifica Non certo bellicosa le nostre terre E invece la nostra cultura tende a fuggire Ma perché? Perché nessuno aiuta la cultura Perché chi fa cultura si sente un po' una sorta di cinghiale bianco Qualche cosa di diverso Daniele io partirei dal presupposto che la cultura andrebbe sostenuta molto di più naturalmente Anzi chi fa cultura e che comunque chi racconta storie è sempre una specie di diverso Un altro Forse ci andrebbe più solidarietà senz'altro Ma per quanto riguarda proprio il mio La mia personale esperienza È senz'altro una contraddizione Andar via da un luogo così bello Così maestoso Così poetico Così arido Ma nello stesso tempo lirico E a volte sono invitato a dei festival Dove si invitano autori olandesi che vivono in Italia E autori italiani che vivono in Olanda Credimi pochi autori italiani sono andati a vivere in Olanda E questo insomma la dice lunga sul fatto che c'è una contraddizione Non ci sono molte persone che decidono di andare a vivere in Olanda E di vivere di cultura e di scrivere di cultura Ma ti senti nemo profeta in patria Oppure ti senti soltanto uno dei tanti uomini di cultura a cui il potere gira le spalle? No, nemo profeta in patria è proprio una cosa che non considero Mi sento un esule Questo sì, me lo sento da sempre Mi sento un errante Io avevo una grande amicizia con Antonio Tabucchi Ci scrivevamo spesso E c'era proprio questa sensazione dell'esilio Questa specie di nostalgia per la vita passata e la vita futura Che ci accomunava E quindi l'essere lì per me è importante E' importantissimo anche per la mia produzione letteraria Io non riesco a scrivere in Liguria Qua riesco a vivere o al limite a tradurre Però in Olanda, in questo luogo che è la mia camera Io dico a volte che non vivo neanche in Olanda Ma in una camera in Olanda Lì è l'unico posto in cui riesco a raccogliermi e a scrivere Quindi è una specie di officina quella mia Ti sei trasferito la tua ispirazione La tua musa ispiratrice parlando di vegetazione Non è più l'olivo ma il tulipano Beh sì possiamo dire questo O comunque le erbe che nascono e che raccolgono la sabbia Che poi formerà la duna Io vivo proprio tra le dune Questo quartiere si chiama Seivaike Che significa quartiere del mare E' una manciata di metri dalla costa Ed è circondato dalle dune E' anche un quartiere che si trasforma peraltro Quasi come se fosse in armonia con la duna Che si trasforma La duna è un ambiente che si trasforma così per natura Un po' di sabbia scagliata dal vento contro dell'erba Forma la duna poi ripassa al vento la scava Ecco questo quartiere che si trasforma e che diventa E' senz'altro il mio fortino Ho iniziato a scrivere in Olanda all'inizio degli anni 90 Però la mia fuga viene da molto tempo prima Viene da vagabondaggi in Isole Canarie In Sud America A Spagna Pertanto le tue opere hai scritto numerosissimi libri Poche poesie per la verità Ma hai scritto molti libri E questi libri sono un mix di cultura Perché parti, diciamo e ritorniamo a ripetere Dall'ulivo per arrivare al tulipano Per arrivare all'esotico Addirittura ai paesi del Sud America In cui descrivi in alcuni testi Naturalmente Ecco ma questo tuo legame con l'Olanda Ecco ce lo puoi svelare E' un legame soltanto letterario di culturale O anche un legame di cuore? Un legame di cuore perché lì ho la mia casa Ho mia moglie, mio figlio E ormai è diventata proprio la mia casa Anzi diciamo che non riesco a rispondermi Quando mi dico sto tornando a casa quando vado in Olanda O sto tornando a casa quando vengo in Liguria E' proprio tutto questo peso anche della memoria olandese E' stata una conseguenza naturale Come un torrente che L'affluente di un torrente insomma che cambia piega E che prende la sua strada Ecco i miei libri sono stati questo Per quanto riguarda l'Olanda L'Olanda è diventata talmente importante Che è stato necessario anche per me raccontarlo Cioè in Olanda non ci sono gli ostacoli che ci sono in Italia Per un letterato, per un uomo di cultura? Diciamo che in Olanda non ci sono gli ostacoli Neanche fisicamente, fisiologicamente Gli ostacoli per un narratore e per uno che guarda E che vede il mondo sono le montagne In Olanda con questa orizzontalità Che gioca molto con la verticalità ligure Bisogna creare certi ostacoli Uno degli ostacoli è il vento Quando si va in bicicletta Però un narratore come me Che cerca di guardare E che è comunque un Un passeggiatore Io appartengo a quella Corrente letteraria dei I miei modelli Sono Sebald Robert Walser E comunque i I narratori che passeggiano molto E che guardano il mondo Ecco, da quel punto di vista Ricercare di nuovo Tutto un tema narrativo in Olanda E riappropriare E giocare tra l'orizzontalità e la verticalità E' stata una Una specie di sfida Il vento porta ispirazione E' un vento diverso il vento che soffia dal Mar Ligure E' un vento che soffia invece Sui tulipani olandesi Il vento che soffia dal Mar Ligure E' un vento che Che imbocca un canale Che è alla valle E' un vento che soffia dal Nel mare del nord E' un vento imprevedibile gelato Un vento enorme Un vento che come raccontava Chetwin In Nel suo libro in Patagonia E' una specie di Di rumore Come un camio che continua ad arrivare Ma che non arriva mai Eh Il vento che io sento in Olanda Mi ricorda un po' Il rumore dei rovi Questo elemento Che ormai Ha inghiottito Ogni valle Ogni costoni Ogni terrazza E che E che noi Usiamo guardare Ma non attraversare Perché Altrimenti ci Ci procureremo ferite Ecco Entrare nei rovi Produce un rumore Che potrebbe essere Il rumore del vento in Olanda Invece di entrare nei rovi In Italia Quello di trovare Difficoltà Di poter Trovare anche Un editore Che sia disponibile A pubblicare Perché insomma Oggi l'editoria E' in crisi E' sempre più difficile Riuscire a trovare Un editore che Si fidi Dello scrittore O del poeta Perché? Perché è difficile Riuscire poi A far sì Che il pubblico Il pubblico inteso Come potere pubblico Capisca l'artista E dia una mano Per veicolare Quell'opera d'arte Ecco C'è ancora il rovo C'è ancora la Liguria Come era una volta C'è il muro intatto C'è la falce Ecco Per me immaginavo il rovo Come un qualche cosa Da penetrare E identificare come Difficoltà Difficoltà di uscire Da un qualche cosa Perché non c'è nessuno Che ti aiuta E dai riverente Devo arrivare al punto Cioè Nelle varie località Liguri E forse anche piemontesi Ma credo molto meno C'è la difficoltà Di potersi esprimere Di poter rappresentare Le proprie opere Proprio perché La cultura È un qualche cosa Di stratosferico Di fantascientifico E parlando Con Giuseppe Conte Lo scrittore Giuseppe Conte Insomma Avevo analizzato anche questo Che il più delle volte Gli assessori Alla cultura I preposti Alla cultura Hanno talmente Poco cultura Che Scusi il bisticcio Non hanno la possibilità Di fare cultura Sono molto d'accordo È difficile appunto Lavorare con le istituzioni Perché sono le istituzioni Che Dovrebbero darci Garantirci Quel Minimo di sostegno Mentre invece Mi accorgo sempre di più Che le istituzioni Quasi È come se fossero le istituzioni Oggigiorno Che Decidono Di sostenere Un libro E Per quel libro Comunque Non spendere nulla Attendere Dall'autore E dall'associazione Che promuove Quel libro Tutte le risorse E tutti gli impegni E Tutte le condizioni E Insomma L'istituzione Oggigiorno Non garantisce Non garantisce ciò che Ad esempio garantisce In Olanda In Olanda L'istituto italiano di cultura Ma Piuttosto che altre Associazioni Le università stesse Che accolgono I I narratori E che li sostengono Con Con pubblicazioni Con traduzioni Ecco In Italia In Italia Tutto questo È ormai sparito È ormai sparito Anche perché Non si capisce Quanto Il libro Faccia difficoltà A A farsi produrre L'editore stesso È in condizione Di strangolamento Quando Parliamo Dell'editoria Non capiamo Che un editore Spende O comunque Deve consegnare Alla distribuzione Alla libreria Il 60% Del prezzo Di copertina Il 10% Deve andare All'autore Il 10% Magari È una traduzione E Senza contare Le spese Di stampa La grafica Tutto questo Insomma All'editore Rimangono Minuscole Risorse Un 10% Un 20% Sempre che Che poi i libri Vengano Vengano venduti Perché altrimenti Le difficoltà Si fanno Questo a volte Scappa All'istituzione Scappa Scappa totalmente Cerchiamo di essere Un po' più positivi Parliamo ad esempio Di uno Dei libri Che ha avuto maggior successo Quattro giorni Per non morire Visto che parliamo Di una cultura Che scappa Speriamo che non muoia In Italia Perlomeno sarà In agonia Ecco Partendo da questo Da questo testo Che se ci illustri Ci farebbe piacere Per arrivare poi All'ultima opera Che vorremmo Che ci descrivessi Ecco Quattro giorni per non morire È un libro che Di per sé Ha avuto una piccola fortuna Ha avuto Alcune traduzioni È diventato È diventato È diventato una graphic novel Quindi un fumetto Per un buon editore È una storia molto biamontana Io sono molto affezionato A Biamonti Alle pagine Torniamo alla terra Agli ulivi Alle mimose A questo lirismo arido Di cui ci parla Francesco Biamonti Era un libro Che era quasi un omaggio Io sono molto legato Alla letteratura Ligua Naturalmente Alla grande letteratura Di Giuseppe Conte E di E di E di Calvino E di Ero molto legato A un autore Che Ho sempre sostenuto Con tutte le mie forze Che era Ero Lanteri Che è deceduto Alcuni anni fa Ma per rispondere Alla domanda Quattro giorni per non morire È esattamente La storia Forse Come una specie di Autofiction Che ho cercato Di Di un Un intellettuale Che scappa Che scappa Ma non proprio Che scappa Come il cervello Che scappa Ma perché scappa Che la sua condizione errante È quasi questa terra Che glielo chiede È quasi È quasi la sua infanzia Eh Si scappa appunto Perché a volte A volte Si è Si è Uno inizia A scappare Da bambino Poi io personalmente Sono andato in collegio Da bambino E si sa bene Che quando si va in collegio O quando comunque Si scappa da bambini Si scappa per tutta la vita Questo Lio narrante Il protagonista Di Di Che è il colibri Che è un archeologo Che va a finire In Sud America Eh Termina comunque Eh Questo Questo Pezzo della sua vita Eh In Liguria Nel tentativo Di scappare anche Alla giustizia Ecco È un libro di frontiere Eh Forse Eh Forse Ed è per questo che Secondo me Un altro aspetto Delle mie Dei mie libri Sono Sono È molto legato alle frontiere A questo A questa regione Che è dentro e fuori E comunque Che è a questa regione Che comunque Pulsante Che comprende un pezzo Di Francia E un pezzo D'Italia E poi E le altre regioni Quelle che ci insegna Quelle che ci insegna Quelle che ci insegna Calvino Quelle che dividono La severità Delle dell'entroterra Dalla Dalla riviera Ecco Mi piace molto giocare sulle 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 Frontiere Raccontare le frontiere E E E Ciò che lega Il mio ultimo libro Soggiorno a Seivike Eh A A questo libro Quattro giorni per morire È che Quattro giorni per morire È legato Per il 90% Alla Liguria Mentre Soggiorno a Seivike È legato Per il 90% All'Olanda Ma c'è sempre un 10% Di Liguria È come se Eh Avessero commissionato Al 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 narratore Di raccontare Eh Gli interni Dalle case olandesi O comunque Il paesaggio olandese E di averli commissionato Però di raccontare anche Tu senti ancora Questa divisione No? La La frontiera Cioè i tempi Di Calvino Eh Di Biamonti Di Orengo Di tutti coloro che hanno parlato di frontiera Che si sono sentiti Liguri Franco Liguri No? Ecco però oggi siamo ad un'Europa unita Dove non si dovrebbe più sentire parlare di quelli che erano una volta i confini Ad esempio il salto dell'acciuga che ti portava al confine tra Liguria e Piemonte E Biamonte che eh guardava al confine eh tra eh la sua la sua terra la sua dolciacqua la sua ventimiglia e mentone c'era questa oggi non c'è più questa divisione di frontiera c'è l'Olanda e l'Italia non hanno frontiere ecco come mai un letterato come te guarda ancora a questo aspetto diciamo fisico politico? Eh fisico politico culturale e e comunque anche geografico eh non sono molto d'accordo Daniele sul fatto che non ci siano frontiere perché perché come dire anche queste frontiere fittizi che sono quelle tra l'entroterra e il e la riviera e poi la Francia e l'Italia ma ma non dimentichiamo che che questo pezzo di Liguria è un pezzo incredibile è un contenitore incredibile di frontiere. Pensiamo solo alla alla regione occitana la terra brigasca la terra brigasca con l'Italia e l'Italia con con l'Occitania e ho presentato tempo fa un libro sugli ebrei sul passaggio degli ebrei un libro di Paolo Vezziano dove veramente la quella frontiera importantissima perché ci racconta un preciso periodo storico è una colpa incredibile ma visitando quei posti Olivetta San Michele con il mio amico Jack in the Green e San Marten Visubi tutta la parte che poi porta ai ricordi purtroppo tristi no? della deportazione cioè gli ebrei che da San Marten Visubi attraversano il Colle dell'Agnello per giungere convinti di trovare la libertà a Borgo San Dalmazzo e invece finiscono nei cari blindati per proseguire nella Germania nazista. Ma naturalmente queste sono storie di campi di concentramento. Certo 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 ma forse quello è il periodo ma il vero periodo dove si è giocata il passaggio degli ebrei credo che sia dal 38 al 40 quando quando veramente il regime fascista aveva aveva come dire adottato questo sistema questo sistema feroce di accettare i soldi degli ebrei che avevano un turista un un viso un viso un viso un viso un 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 permesso turistico e poi dall'altra parte espelleva gli ebrei stranieri o suggeriva loro di allontanarsi dalla quel quel periodo ci insegna molto sulla frontiera che noi abbiamo 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 qua davanti no? La storia stessa poi odierna ci insegna quante frontiere siano ancora presenti in 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 quel posto quanto quanto ancora senza andare a colpevolizzare la storia quanto ci sia ancora di risolto in queste in queste frontiere. Quindi quando si pensa a un a una a un a un Europa senza frontiere insomma viene voglia di di andare a scavare di vedere quanto ancora c'è bisogno di conoscere dalle vecchie frontiere per non rimettere insieme gli errori del 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 passato. Noi ringraziamo Marino Magliano per aver accettato questo nostro invito, ci auguriamo che queste frontiere, anche frontiere culturali, cadano definitivamente e ci auguriamo soprattutto che la cultura non superi queste frontiere, non scappi, non fuga dall'Italia. Grazie a Marino Magliano, grazie per essere stato qui con noi, grazie alle tue opere, grazie alle tue traduzioni, grazie a voi telespettatori per averci seguito, vi diamo appuntamento come sempre a mercoledì prossimo alle 21.15 con l'Iriverente, sempre su Imperia TV. Buonasera a tutti. Grazie a tutti.